E testa a testa tra il governatore Michele Emiliano e il ministro all'istruzione Lucia Azzolina, che nella giornata di ieri si sono scritti a suon di comunicati stampa. A detta del rappresentante del governo sarebbero giunte numerose segnalazioni da parte della comunità scolastica pugliese e delle famiglie, che hanno manifestato confusione e disorientamento rispetto ad alcuni punti dell'ordinanza emanata dalla regione e alle pronunce di diverso segno da parte del giudice amministrativo pugliese dei giorni scorsi. Infatti, dopo la pronuncia del tardi Bari, Emiliano ha dovuto emanare una ordinanza che modificava la precedente. A partire da sabato scorso, quindi, è stata data la possibilità alle scuole elementari e medie di poter fare didattica in presenza o a distanza, lasciando la patata bollente tra le mani dei genitori. Per questo, il ministro ha chiesto al governatore di ritirare o revisionare l'ordinanza regionale, che tenga conto di quanto previsto con grande chiarezza dal DPCM dello scorso 3 novembre, per le zone cosiddette Arancioni, Puglia compresa, a tutela del diritto all'istruzione. Tra gli obiettivi, il voler scongiurare il rischio di far diventare l'istruzione un servizio a domanda, oltre che quello di uno scontro tra le famiglie e le scuole, di cui va preservata l'autonomia. Non è un modello alternativo scolastico a quello indicato dalla Costituzione, ha spiegato Emiliano. L'ordinanza si limita a definire la didattica a distanza come uno strumento di tutela della salute pubblica, dato l'elevato numero di contagi registrato nelle scuole. Nonostante non condivide i toni e contenuto della nota del ministro, ha concluso il governatore, proverò in ogni modo a collaborare al fine di garantire la tutela di studenti, docenti, personale scolastico e famiglie pugliesi. Nel frattempo, a Bitonto le famiglie hanno espresso la loro preferenza alle scuole, ma questo non ha fermato le polemiche di alcuni genitori sui social. Tutte le scuole sono state riaperte, ma con diverse modalità. Ha confermato ai microfoni di Radio Doppio Zero l'assessore alla pubblica istruzione di Bitonto, Marina Salierno. Le scuole Giuseppe Cagliati e Vito Felice Cassano sono riaperte con la didattica in presenza e così anche l'istituto comprensivo Mudunio Rutigliano Rogadeo, però solo nei plessi dell'infanzia e con gli alunni di prima elementare. Invece la scuola elementare Fornelli e Mediasilos stanno adottando la formula mista, dando precedenza però alla didattica a distanza.